Professor Greco, cosa l'ha insegnato questa pandemia? Cosa hanno aggiunto alla sua esperienza tre mesi di emergenza Covid? Intanto questa pandemia ha evidenziato un errore di fondo della sanità in questi anni, ovvero sia quello di avere trascurato la medicina del territorio raggruppando tutto nei grandi ospedali e nei grandi pronto soccorso. Questo ha fatto sì che non venisse intercettato all'inizio il virus, non venissero intercettate le infezioni, si sono affollati i pronto soccorso, che soprattutto al nord sono diventati un pabulum loro stessi di infezione. Questo perché in tutti questi anni si è ritenuto che ormai le malattie infettive fossero qualcosa di quasi inesistente, sia nell'occidente, ma che fossero localizzate essenzialmente nei paesi in via di sviluppo.